no la c'è aspetta farmiamo un po' di soldi a sto punto no? eh sì vero vero sbarriamo almeno non entrano negli npc ok ok guardi la quanti cavolo di zombie andiamo a vero ma dovrà fare il giugno di pomeriggio magari andremo un po' nella giungla o perchè c'è il pomeriggio sotterraria ma beh tu controllare questa parte con io vi provo da questa durante il D va bene ahia maledetti oh cavolo alcune hitbox sembrano che non funzionino poi magari sono io straottimo via se ammazziamo abbastanza zombie ci danno il cappello con la nero che è fantastico perchè la guida? eh tu vuoi un po' il tuo gregna vai stella vai stella nooo hai sbagliato mio ah ecco pensavo sparisse durante la luna di sangue aspetta che vado a prendere quello come? what the fu? oddio spero che non sia lava questa ma la voglio toccare aspetta ah ok non è lava devo guardare l'acqua è rossa rossa sangue che figata ah è vero perchè se non sbagliarlo anche ha aumentato la probabilità che arrivi la luna di sangue se non sbaglio di tanto eh e poi io il primo mondo che ho creato nella 1.2 la prima notte è arrivata no guida non lasciarti uccidere come cavolo si la fa uccidere un grillo grillo è una stella vado per il primo conto fa solo un'ora di pirula notte no guardi no ora quell'occhio senza pupille merda guarda quanti zombie ora si che son più di la fordata ma mi sa anche di più di di non so qual'altro gioco di zombie una coppia 2 tra un 80 suderai eh si era un 80 marie grillo difensivo quanti punti ai quanti punti ai sac non lo so tipo dopo devo andare a prendere il liquefattore un attimo più 4 di difesa grillo più 4 di difesa wow epico è la madonna il grillo dopo a si ok epico l'arco no io l'avrei battuto però stanotte l'occhio di ctulo perchè così eh vabbè ma c'era così i zombie spawnavano e spawnavano e lui spawnava meno occhi perchè aveva già raggiunto il limite cosa credo spero uh 28 di danno con una frecciata tipo overpower torniamo che terraria non è come mai trovare quando c'è neanche il limite lim lim limite no c'è il limite oh guarda qua mi pareva di aver rimosso gli annunci da sti però quanto pare sarà fuori comunque c'è qua qua guardate quanti cavolo dei zombie ci sta rimandendo la cava arriva arriva qui aiutati le porte marri poppin traguida traguida deficiente marri poppin sui merda un minuto niente grazie mi chiuso fuori lo so gli zombie sanno aprire le porte lo so ci sono gli zombie piccoli oddio aspetta aspetta ok stai guardando vicino alla casa per caso se non sto andiamo a merda perché chiuso si lasciarla porta aperta allora ma comune appro loro anti scorte aiotta un n haye no 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 la rosse se hai io ho in mezzo otto grillo arcano io ho invece da studi contatto aia stupido zombie che si tele trasporta dietro la diva non è neanche colsi 35 di di farlo no non posso impossibile aia niente sai cosa devo fare devo mettermi la macro con la personaggi delle spadate continuamente all'altra no cavolo astri di zombie 300 di cioè 600 frecce ci basteranno per catturro calcolando che poi ho preso le granate perché 600 perché ho altri 108 di legno quindi ne posso draftare a ma non serve perché vuole che puoi comprare benissimo le granate le granate le hanno non voglio distrutti no 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 quanto costano le granate prima un arcento adesso costano 70 dirà costano meno o magari sono scontato chi lo sa saldi estivi di steam si si su the binding of isaq ci sono i saldi di steam porca vacca ok ok ah cavolo cos'è che mi hanno dato no io una cosa che pensavo è che quitter iniziava la serie di terrari invece no fap no volevo dire gentleman cioè guarda adesso ti faccio vedere una cosa che gli zombie mi hanno droppato un drop raro devi assolutamente vedere ovvero adesso ti faccio vedere appena arrivo questo vero togliti 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 fap è arrivato il momento di usare la mano di zombie oddio che figo quanto fa di danno 12 mio 13 è anche più piccola non è giusto ma quanto fa di zombie ah ah piavano zombie piavano zombie non piavano più polpette ok via io quel film quanto faceva cagare cosa io quel film quanto faceva cagare ma non è mica tanto vero eh tipo reggio film ma dipende dalle opinioni non pubblica secondo me il film animato più bello che c'è è Shrek il primo no no Shrek l'ho odiato perché io da piccolo io da piccolo l'ho visto tipo 3 milioni di volte ma anche di più si ma è stupido Shrek non lo non lo non lo trovo interessante cioè c'è soltanto poi la parte quando va nella la parte quando va nello stadio è Epican che fa alcuna tutti con l'M60 ma vabbè l'M60 tipo Rambo ma tanto lo sappiamo tutti che il film più bello è Tremors si Tremors si quello sono d'accordo Tremors è il film più bello che esiste strano non riesco ad aggrapparmi poi Shooter Shooter l'hai visto si no no Shooter no eh è un film che devi vedere eh più avanti no no devi vedere no ma è un bel film c'è Mark Wahlberg che praticamente lui è un è un cecchino dimmi 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 proprio tutti quanti i nomi che io non conosco ah ok tranquillo eh lui è un cecchino che lavora per vabbè gli Stati Uniti e nel in mezzo di una battaglia praticamente lo stato li lascia li li lascia li da soli il suo compagno muore è l'osservatore lui è un cecchino un osservatore muore presenti che è un osservatore no si si dovrebbe eh dovrebbe essere il cecchino su Battlefield eh eh praticamente lo abbandono quindi poi nel tutto resto del film si vendica di tutte le persone che avevano dato gli ordini di lasciarlo lì anche per altre storie oh è finita è finita è finita c'è uno zombie c'è uno zombie c'è uno zombie zombie ribelle via Fapp ho un regalo per te ho un regalo per te un'altra mano si oh yeah la mano dei Fapp io ho un grillo con più 20 di mana lol lo vuoi tu? ci sono eccomi qua wiii ho fatto anche oh io ho un grillo che ti da più 20 di mana no 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 ma c'ho quello più 4 difesa mi servirà più avanti allora dove sei? eh mano mano cos'è questo? bello eccolo qua è anche più potenziato ah ma no quello arcano ce l'ho già guarda c'ho tipo 4 grilli più 20 di mana ho due più 20 di mana ah che figa però me la mettono nella mia chance d'oro ah pensavo ok vabbè boh nego ahia mi son mi son dimenticato sai cosa di controllare cosa vendevano i qua i negozianti gli npc durante la blood moon che vendono roba di marco no facciamo una cosa ah vero ah vero allora vabbè via 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 e questo nessun valore questo nessun valore quindi lo tengo comunque abbiamo 15 granate 15? e una 19 e una 19 e la prendo io eh si oh ma c'ho 3 mani cavolo aspetta ne vendo una c'ho anche 300 frecce cioè come mai ne ho 300 così a caso eh un'altra stella di mana per te grazie dammela no aspetta dammela dammela ecco grazie per fortuna che non sparisce questa di giorno eh si ecco ti ho spaccato le orecchie per caso tanto per sapere eh non è che ops scusa oh la e ora con questo ci facciamo un'altra corda ok e questa la mettiamo la ok allora devo mi fare un bel po' di freddo hm no ho sbagliato parte no cos'è sta storia allora adesso cosa dobbiamo fare andiamo intanto andiamo ad esplorare un attimo di qua mentre aspettiamo la notte andiamo ad esplorare qua il coso questo questo pezzo qua dovremmo andare un po' più ah questi sono gli altari si è demoni altare pot ah e qua c'è la giungla allora come facciamo fab cosa come facciamo io noi abbiamo la casa qua andiamo di qua si giusto andiamo di qua di qua di qua fab di qua segui il mio personaggio segui il mio personaggio andiamo di qua perchè dobbiamo esplorare un attimo il nuovo bioma congelato che non l'abbiamo ne ancora fatto te l'hai fatto? no ecco vedi c'è sì l'ho fatto ma non fatto fatto cioè ci sono passato e basta ok vabbè controlliamo se c'è qualche tipo di stranezza tipo il golem quando è che spawnerai secondo te quanto sarà grande nooo aia aia ok mi ero dimenticato che non avevo le ali no giocare troppo la vecchia versione di terraria non apprezzo proprio ah è vero ma c'ho Mary Poppins cavolo c'ho Mary Poppins perchè dove ecco prendi te i drop si impari Mary Poppins Mary Poppins time ok ci sono vabbè no slime aia grazie mi ha fatto volare ancora di più guarda che bella torcia verde no musichetta è fantastica mi chiedo che musiche avrà avrà terraria 2 tipo ancora più epiche si si quelle cantate da fap eccole qua le slime congelate aia bastardo devo anche fare un po' di con le cose slime si ok dopo faccio un po' di pozioni a proposito le stal no queste no queste stalattiti qua se io le colpisco si rompono tipo aspettami un attimo aspettami un attimo si ma non danno niente ma il legno è diverso ah aiuto che figata guardalo guardalo è uno scivolo merda una caverna? si c'è una caverna strana adesso ti dico ah ecco sono urne congelate guarda che bello guarda che figata la torcia verde no non ho prezzo non c'è niente andiamo ok devo ancora capirmi queste cose quindi non c'è niente andiamo avanti grazie grazie mille guarda sei proprio un amico che bastardo non c'è di che che bastardo ah mi tocca fare così così eccolo la cioè mi sento veramente un ninja altro che te con i tuoi cosetti che non so che cavolo siano guardalo una roba epica ok ghiaccio rosso? the fuck? aaaaa tipo prima o poi prenderò è bellissi hai visto hai sentiti i suoni di quando rompi il ghiaccio e la neve? sono quelli la del vetro mi pare non per dirti ah fai schifo cioè ah no è vero non sono quelli aspetta fa sentire no questo è della terra sentire questa cambia tra ghiaccio e neve è vero pensavo fosse tipo ah no quello delle stalattiti e quello del del cos però i blocchi di ghiaccio servono a qualcosa prendere un po' cos'è sta roba? ghiaccio corrotto ghiaccio rosso ghiaccio corrotto red ice block che vuol dire? blocco di ghiaccio rosso ah ecco cosa vuol dire cavolo c'è una sfera poké what the fuck? eh? uh senti qua senti come sono le urne qua come se come oh merda non mi piace sto posto lo sai proprio non mi piace aiuto senti la musica oh merda faccio luce faccio luce vai cavolo ci fosse una magia già da adesso che mi darebbe una mano sono anche leggermente più veloce e se non ti spero allora questi sono gli obiettivi eh battere la pittura ovviamente fare un'arena e cercare di battere anche il mangiatore di niente e se diciamo anche lo scelto quindi detto questo eh vabbè faccio faccio vedere questo possiamo iniziare a salvare beh faccio vedere questo possiamo iniziare a salvare andiamo dai allora iniziamo subito